Oggi è una giornata importante perché anche insieme alla Regione, grazie al bando Net4U, che per noi si trasforma nel nuovo brand Digital Talent, quindi formare e qualificare giovani della Regione Marche in una fase d'età di 18-34, che dovranno, dopo questo corso, è chiaramente pagato interamente dalla Regione Marche perché è un fondo perduto, dovranno in qualche modo accrescere il loro bagaglio di esperienze e noi lo facciamo e lo faremo legandole al digitale, tutto quello che è connesso alla trasformazione digitale, che come ben sapete, non devo dirlo io, ma oggi le aziende vivono di digitale, c'è una trasformazione in atto da saper cogliere e noi in questi spazi, insieme alla Regione e anche in 18 mesi, grazie alla possibilità in questo bando di portarlo in tutta la Regione, quindi attraverso le aziende, attraverso i territori, far conoscere questi giovani, che saranno tanti, perché mireremo a oltre 300 giovani nella fase informativa e formativa, piano piano, con una selezione a modello di talent. Ecco perché il digital talent, ecco perché vorremmo che i giovani, di volta in volta, si aprissero sempre di più, portando anche loro quello che sono le loro capacità. Cosa vorremmo? Vorremmo, insieme alla Regione, in questi 18 mesi, avere dei nuovi talenti pronti per la sfida digitale che oggi vi sta aspettando. Solitamente si cerca di avviare le persone al lavoro, i giovani al lavoro. Io credo che sia molto importante anche orientare e avviare i nostri giovani all'imprenditoria. Noi i mesi scorsi abbiamo messo in campo diversi bandi per incoraggiare i giovani ad aprire nuove partite IVA. Abbiamo visto che c'è stato un grosso successo su questo e quindi vuol dire che c'è una predisposizione nella nostra società ad aprire impresa, nuove attività e quant'altro. Da qui, in conseguenza, abbiamo pensato anche a come poter supportare i giovani in questo percorso. Ma noi abbiamo proprio voluto mettere in campo un'attività e sostenere anche finanziariamente gli incubatori di impresa, in questo caso residenti che hanno sede nella nostra regione. Abbiamo messo a bando, con una cifra anche consistente, 1.800.000 euro, questo sostegno. Ci sono stati quattro assegnatari, tra cui qui dove oggi siamo ospiti. Giustamente da qui noi partiamo e questi quattro incubatori di imprese, insieme alle università delle Marche, insieme ad alcune imprese e alcuni enti accreditati, antiformativi delle Marche, intraprenderanno questo percorso proprio di supporto, aiuto, orientamento ai nostri giovani per aprire nuove imprenditorie. Purtroppo abbiamo un fenomeno molto presente nella nostra regione e nella nostra provincia che è quello della fuga dei giovani verso altre regioni o addirittura all'estero e si tratta in genere dei giovani migliori, per cui è importante cercare di stimolarli a rimanere nel nostro territorio. E certamente in un mondo in grande cambiamento come quello attuale, avere delle idee imprenditoriali che possano dar vita, appunto, delle iniziative possibilmente di successo è certamente una cosa da fare, da proporre, da simulare e da promuovere. Quindi in questo la collaborazione anche con questi progetti da parte nostra è fondamentale. Ci rivolgiamo a una platea di giovani, fra i 18 e i 34 anni, con formazione superiore e o universitaria e che abbiano il requisito di essere disoccupati al momento. Si partirà con un recruitment molto ampio, abbiamo numeri ambiziosi, parliamo di centinaia di partecipanti e ci auguriamo che questi obiettivi siano raggiunti. Quindi si partirà con una giornata che prevediamo la prima, essere a fine febbraio, inizio marzo, in cui faremo una carrellata degli argomenti principali che contraddistinguono la digital transformation. Quindi si parlerà di artificial intelligence, di augmented reality, di tutti quegli argomenti che sono, diciamo, gli americani dicono top of mind, dell'evoluzione tecnologica. Dopodiché, attraverso varie selezioni, passeremo dall'informazione alla formazione. Formazione che avverrà con l'ausilio di W Academy, che è molto forte su questo fronte, e comincerà ad approfondire i vari temi per dare proprio quello spessore all'iniziativa che permetterà di formare delle figure professionali che o scaturiranno nella formazione di start-up o, in ogni caso, riqualificheranno il profilo professionale dei partecipanti. Fino ad arrivare alla fine del programma, con la selezione delle cinque migliori idee, che ovviamente saranno premiate con iniziative ulteriormente formative, prevediamo magari degli stage all'estero, eccetera, eccetera, per poi concludere questa prima fase, che ricomincerà con la ripresa post-estiva. Grazie. Grazie.